amici di prof digitale ben ritrovati all'interno di questa pillola del prof ho deciso di parlarvi di una web app creata da una start up italiana molto giovane che promette di rivoluzionare il modo in cui utilizziamo la lim in classe infatti grazie a questa web app è possibile registrare le nostre lezioni sulla lim ed anche di condividerle in maniera facile e veloce con i nostri alunni so bene che già ai software installati all'interno dei computer che gestiscono le vostre lim consentono di registrare la lezione ma il punto chiave di questa web app sta proprio nella condivisione facile ed immediata con i vostri studenti questo permetterà di registrare le vostre lezioni e di renderle disponibili per i vostri alunni una volta che questi saranno tornati a casa e le renderà disponibili anche magari ai ragazzi e le ragazze che non sono stati presenti la mattina a scuola quindi una web app molto interessante della quale non vedevo l'ora di parlarvi quindi come al solito andiamo direttamente all'interno del video tutorial per vedere come funziona l'IME. Bene come vedete mi trovo all'interno del sito l'IME scritto lim-e e l'indirizzo è lim-e.it come vedete il sito vi dice che permette di registrare le lezioni in classe e di rivederle da qualsiasi dispositivo la registrazione è gratuita e appunto si possono registrare le lezioni fatte utilizzando la LIME il computer oppure il tablet i video che vengono registrati hanno la caratteristica di essere ultra leggeri è giusto per farvi capire un'ora di video pesa all'incirca 20 mega quindi pochissimo quindi anche coloro che hanno problemi di linea all'interno della scuola che non hanno una connessione magari molto veloce possono registrare la propria lezione senza timore di dover poi intasare la banda della propria linea a dsl o in fibra non è possibile scaricare i video quindi da di questo dovete essere diciamo sicuri non è possibile per gli studenti scaricare i vostri video i video possono essere visti solamente all'interno della della piattaforma ed ovviamente ed essendo questa cloud è possibile connettersi praticamente ovunque ci sono degli abbonamenti ma di questo parleremo più a più tardi la registrazione vi dicevo è gratuita è sufficiente fornire un nome utente un'email e scegliere una password io mi sono già registrato e quindi clicco sul tasto accedi una volta registrati ed una volta entrate all'interno della piattaforma la prima volta che entrerete vedete questa schermata non segui ancora nessuna playlist qui siamo in modalità studio quindi qua si vede da questa icona e la barra è grigia quella dove c'è scritto lime non si segue ancora nessuna playlist questo perché le lezioni così come i video su youtube o le canzoni ad esempio su spotify o su apple music vengono suddivise per playlist quindi una playlist contiene più lezioni questo ci permette ad esempio di creare tutta una serie di lezioni magari per un determinato argomento oppure per una determinata classe se sono lato studente cioè in questa modalità con in alto vedete l'omino che legge è sufficiente per me cercare il nome utente del mio insegnante quindi sarete voi docenti che darete il vostro nome utente agli studenti affinché riescano a trovarvi clicchiamo sul box di ricerca sulla lente e iniziamo a cercare un insegnante ho trovato la professoressa calzavara clicco sul suo profilo e trovo tutte le sue playlist vedete è un insegnante di matematica e fisica le sue playlist però vedete hanno in alto un lucchetto questo vuol dire che le playlist possono essere aperte ma anche chiuse questo implica che chiunque voglia vedere le mie lezioni contenute all'interno della playlist mi debba chiedere il permesso quindi io clicco sulla playlist fisica prima per vedere le sue lezioni ma come vedete non posso vedere niente devo cliccando chiedere il permesso vedete la lezione in una playlist chiusa occorre ottenere il permesso dal proprietario per accedere alle lezioni quindi richiedi quindi tutti quelli di voi che hanno timore nel pubblicare del materiale a così su una piattaforma per timore che possa essere ripreso da sconosciuti o che possa essere magari scaricato ecco di questo potete stare tranquilli si accede alle lezioni solamente tramite permesso quindi siete voi che date il permesso in questo caso magari solo ai vostri alunni per accedere all'interno di una lezione ma vediamo nel nostro caso da insegnanti come si fa a registrare una lezione clicco qua dove c'è l'omino che legge e vado su insegnamento vedete che cambia la barra orizzontale in alto e io ho già fatto una una prova vedete insegnamento è caratterizzato dall'insegnante con la lavagna ho creato una playlist ma lo rifaccio insieme a voi crea una nuova playlist la chiamerò come quella precedente quindi magari chiamo italiano classi prime mettiamo seconde italiano classi seconde posso dare dei tag quindi dei tag italiano e dovrebbe saltare fuori appunto vedete il tag italiano e posso mettere altre etichette per consentire poi anche ai miei studenti di ritrovare poi in maniera facile le varie playlist clicco su aggiungi e viene creata appunto una nuova una nuova playlist clicco poi su nuova lezione quindi cosa viene inserito all'interno della mia playlist posso creare tre tipologie di lezione la tipologia numero uno quella con la lavagna si intuisce quella che mi consente come vi dicevo prima di registrare una lezione fatta sulla lim e di caricarla poi sulla playlist viene registrato quello che io faccio sulla lima viene registrato anche l'audio altrimenti posso usare un pdf come riferimento magari il pdf di una presentazione in powerpoint o google presentazioni o un pdf magari trovato in rete partire da quello per appunto commentarlo e prendere appunti grazie appunto alla lim sul pdf stesso oppure posso registrare un podcast quindi un file solamente audio quindi registrano una lezione però senza l'ausilio del video senza l'ausilio della lima quindi registro la mia lezione come un file audio ma proviamo a registrare la nostra lezione con la lavagna quindi clicco sulla lavagna questa diventa verde e poi premo sul tasto continua a questo punto dovrò dare un titolo alla mia lezione per esempio gli articoli e la dovrò inserire all'interno di una playlist magari quella italiano classi seconde quindi salteranno fuori tutte le playlist che avete creato e posso dare anche quad anzi devo perché obbligatorio devo dare una italiano ad esempio salterà fuori tag italiano ma posso mettere anche grammatica e dovrebbe venire fuori anche il tag grammatica se non viene fuori punto e virgola pure virgola per inserire un nuovo tag clicco su aggiungi e si aprirà la schermata del appunto della mia lezione questo sta già registrando quindi non devo fare niente per far registrare il video il video sta già andando devo solamente cominciare a registrare l'audio e devo selezionare la la sorgente audio e verificare la sua operatività quindi inizio il test si dice qualcosa si vedete salta fuori la possibilità di registrare noi dobbiamo consentire alla pagina di registrare di registrare l'audio e appunto ne sentiamo se la nostra registrazione funziona la pagina di registrare perfetto quindi funziona alla prima e premo il tasto ok ok quindi adesso l'audio sta venendo registrato e sta registrando anche il video cosa posso fare questa come vedete è una lavagna io adesso sono sul computer ma se fossi con il pennino della limma in mano davanti appunto alla lavagna sarebbe la stessa identica cosa posso andare in modalità schermo intero e questo ci permette di avere un'area di lavoro più ampia e posso iniziare a scrivere appunto quello che dicevamo prima gli articoli adesso sono sul trackpad e quindi scrivo malissimo ma in questo caso potrei mettere un campo testuale clicco sul tt e seleziono qua e scrivo articoli posso spostarmi sul più e il meno per ingrandire o diminuire il testo questo funziona anche con il tratto della della mia penna quindi qua sto scrivendo con un determinato spessore ma se aumento lo spessore questo aumenterà appunto anche per quanto riguarda il tratto della penna cos'altro si può fare si possono inserire anche delle immagini quindi qua io trascinerò un file stiamo parlando di lime quindi ho inserito l'immagine di un lime in trasparenza con la modalità di selezione cliccando sulla singola immagine è possibile anche ridimensionare vedete ingrandire l'immagine l'immagine stessa posso decidere di mandarla sopra o sotto rispetto agli altri elementi presenti sulla sulla lavagna oppure poi posso posso ruotarla posso duplicarla e quant'altro quindi questo ci consente come vedete di fare tutta una serie di operazioni che bene o male è possibile fare anche con i software che abbiamo già sulla lim poi posso dicevamo anche passare alla modalità panoramica quindi ho praticamente spazio infinito sulla mia lim quindi posso spostarmi a destra a sinistra sopra e sotto rispetto al al testo che ho già che ho già inserito posso renderlo più piccolo quindi veramente è possibile fare tutta una serie di operazioni che sono possibili anche sui software della lim ma in questo caso in maniera molto semplice molto molto ridotta abbiamo ci possiamo veramente concentrare su quello che è il contenuto della nostra lezione quando ho finito di registrare la mia lezione preme il tasto qua completa posso anche andare in pausa uscire e riprendere successivamente la lezione però in questo caso diciamo che la mia lezione è completata ci chiede se vogliamo appunto uscire dalla lezione corrente clicchiamo ok e il mio video viene caricato all'interno della mia della mia playlist adesso la pagina si ricaricherà correttamente e come vedete in maniera velocissima la mia lezione di tre minuti viene caricata all'interno del cloud e una volta raggiunto il cento per cento sarà disponibile per la visione adesso vediamo effettivamente cosa succede andando a vedere il nostro il nostro video viene fuori un player un player video che dicevamo non consente di scaricare il contenuto della lezione player video che può essere messo anche in modalità tutto schermo clicchiamo play e poi premo quindi come vedete io adesso metto muto lascio andare comunque il video il video può essere anche mandato in modalità 1,5 per quindi magari per quegli studenti che hanno bisogno di rivedere ma in maniera leggermente più veloce la vostra la vostra lezione quindi abbiamo registrato la nostra la nostra lezione in maniera molto veloce e molto semplice e questa è già online affinché i nostri alunni la possano poi rivedere in un secondo momento quindi dicevamo come faccio per condividere la nostra lezione posso condividere anche direttamente l'indirizzo della lezione stessa ma ovviamente essendo questa lezione all'interno di una di una playlist privata se i nostri alunni hanno il permesso di visualizzare i contenuti della playlist potranno andare direttamente alla lezione e guardarsela tranquillamente altrimenti gli verrà chiesto di fare richiesta per iscriversi appunto alla nostra playlist line dicevamo con se ha una serie di abbonamenti ma il piano gratuito consente di registrare tutte le lezioni che volete e consente ai vostri alunni di rivedere le lezioni della settimana corrente quindi all'interno della settimana potete registrare anche 100 lezioni senza nessun problema ma i vostri alunni hanno tempo una settimana per rivedere la lezione e quindi diciamo è un'attività che deve durare circa sette giorni invece con 25 euro all'anno si possono registrare tutte le lezioni che si vogliono e si possono far rivedere ai nostri nostri alunni tutte le lezioni dell'anno corrente quindi senza nessun nessun limite quindi solamente 25 euro l'anno quindi uno sceglie il piano di abbonamento che più si adatta alle proprie esigenze quindi già quello gratuito è ottimo ma ecco 25 euro l'anno sinceramente sono veramente molto pochi per il tipo di servizio che viene fornito da questa ottima startup che ripetiamo si chiama lime bene spero che questa pillola sia stata di vostro gradimento nel caso un mi piace e l'iscrizione al canale se non l'avete già fatto mi farebbero veramente molto piacere vi ricordo che volendo potete seguire anche i social di prof digitale trovate le coordinate qui di fianco e l'appuntamento è come sempre per un prossimo video tra circa sette giorni grazie a tutti a presto